Immaginate un'estate italiana, calda e avvolgente, dove ogni angolo racconta una storia. Il sole splende alto nel cielo, irradiando calore e luce su tutto ciò che tocca. L'aria profuma di limoni e pane appena sfornato, un'aroma che risveglia i sensi e riporta alla mente ricordi di infanzia. La vita sembra semplice, bella, come se il tempo si fosse fermato per permetterci di assaporare ogni momento. Questo è lo scenario di Immaturi, una commedia che ha conquistato il cuore del pubblico fin dalla sua uscita su Italia 1, diventando un classico moderno. Una storia di amicizia, seconde occasioni e il percorso, a volte accidentato, verso l'età adulta, che ci ricorda l'importanza delle relazioni umane. Immaturi segue le vicende di sei amici d'infanzia costretti a rivivere il loro passato, affrontando vecchie ferite e riscoprendo legami perduti. Pensavano di essersi lasciati alle spalle gli anni della scuola, ma il destino, si sa, ha altri piani, riportandoli indietro nel tempo. Preparatevi a ridere, commuovervi e magari anche a ripensare ai vostri giorni di scuola, a quei momenti che hanno definito chi siamo oggi. Questo film vi riporterà indietro nel tempo, ai primi amori, agli incontri imbarazzanti e alle esperienze che ci hanno fatto crescere. E alla consapevolezza, dolce amara, che crescere è inevitabile, ma anche pieno di scoperte. Ma ci ricorda anche che non è mai troppo tardi per inseguire i propri sogni, per trovare nuove passioni e per reinventarsi, e accogliere le sorprese della vita, con il cuore aperto e la mente pronta a nuove avventure. Dietro questa storia che scalda il cuore c'è il talentuoso regista Paolo Genovese. Noto per la sua capacità di catturare le complessità delle relazioni umane, Genovese ha un dono speciale per creare film che entrano nell'anima degli spettatori. Le sue opere precedenti, come Perfetti Sconosciuti e The Place, hanno esplorato temi di amicizia, amore e segreti che custodiamo gelosamente. Con Immaturi, Genovese porta il suo stile inconfondibile in una storia leggera, ma che invita alla riflessione. Intreccia magistralmente umorismo ed emozione, creando un film che vi accompagnerà anche dopo la fine dei titoli di coda. Quindi, preparatevi a immergervi nel mondo di Immaturi. È un viaggio che non vorrete perdervi. La nostra storia inizia con un gruppo di sei amici, ormai prossimi ai 40 anni, che conducono vite molto diverse. Non si vedono molto dai tempi del liceo. La vita, come spesso accade, li ha portati su strade diverse. Ma un giorno, le loro vite prendono una piega inaspettata. Ricevono una notizia sconvolgente. Il loro esame di maturità non è mai stato valido. Immaginate lo shock. A distanza di anni, sono costretti a tornare tra i banchi di scuola e ripetere l'esame. Che colpo di scena! Questo evento inaspettato getta le loro vite nel caos. Sono costretti a confrontarsi con il loro passato, i loro rimpianti e le strade non percorse. Ma rappresenta anche un'opportunità unica. La possibilità di ritrovarsi, e forse, chissà, di riscoprire se stessi lungo il cammino. Conosciamo il nostro primo personaggio, Giorgio, lo scapolo incallito. Giorgio è un affermato chirurgo plastico, affascinante, carismatico e totalmente allergico all'impegno. Giorgio si accontenta della sua vita spensierata, fatta di amori fugaci. Evita qualsiasi cosa anche lontanamente seria. Impegnarsi? Non fa per lui. Vede l'annullamento del diploma come un fastidio, un'altra ragione per evitare di mettere radici. Ma man mano che passa più tempo con i suoi vecchi amici, Giorgio inizia a mettere in discussione le sue scelte. Possibile che la vita offra qualcosa di più di flirt passeggeri e relazioni superficiali? Il prossimo della lista è Lorenzo, un uomo apparentemente prigioniero del suo passato. Lorenzo è un architetto di talento. È ancora innamorato di Francesca, la sua fiamma del liceo, anche se lei sta per sposare un altro. Un caso di amore non corrisposto da manuale. Lorenzo è bloccato, incapace di voltare pagina e trovare la felicità. La notizia dell'esame non valido, lo costringe a fare i conti con i suoi sentimenti per Francesca. Troverà finalmente il coraggio di andare avanti, o rimarrà intrappolato in un passato che non può tornare. Passiamo a Piero, il nostro prossimo personaggio, un padre di famiglia alle prese con i rimpianti. Piero è sposato, ha dei figli, ed è un uomo d'affari di successo. In apparenza, ha tutto ciò che si possa desiderare. Ma in fondo, Piero si sente insoddisfatto. Sogna una vita meno ordinaria. Ha rinunciato al suo sogno di diventare veterinario per compiacere il padre. Ora, con l'opportunità Piero vede la possibilità di seguire finalmente la sua passione. Ma avrà il coraggio di fare il grande passo e rischiare tutto per una seconda chance di felicità. È il momento di conoscere Luisa, una donna in cerca della sua indipendenza. Luisa è una mamma a tempo pieno. Ama profondamente i suoi figli, ma nel tempo ha perso la sua identità. Si sente soffocare e desidera qualcosa di più appagante. L'esame di maturità annullato diventa il suo biglietto per la libertà. È un'occasione per riconnettersi con le proprie aspirazioni e dimostrare a se stessa di essere capace di qualcosa di più che essere solo moglie e madre. Francesca, l'oggetto delle attenzioni di Lorenzo, è una donna divisa tra amore e sogni. Sta per sposare un uomo ricco, una decisione dettata più dalle aspettative sociali che dal vero amore. Ma Francesca nasconde una passione segreta per la scrittura. La notizia dell'esame di maturità non valido sconvolge la sua vita ben organizzata. La porta a mettere in discussione le sue scelte e a chiedersi se stia davvero seguendo il suo cuore. Sceglierà la strada sicura e convenzionale, o farà un atto di fede e inseguirà i propri sogni. Ultimo, ma non per importanza, ecco Virgilio, un animo timido e introverso alla ricerca della sua voce. Virgilio ha sempre vissuto all'ombra del padre, un rinomato chirurgo. Non ha mai avuto il coraggio di farsi valere o di seguire la propria strada. La notizia dell'esame di riparazione costringe Virgilio a uscire dalla sua zona di comfort. Inizia a capire di avere una voce e che i suoi sogni sono importanti quanto quelli degli altri. Riuscirà finalmente a liberarsi dall'ombra del padre e a trovare la sicurezza necessaria per diventare la persona che ha sempre desiderato essere? Mentre i sei amici affrontano le sfide della maturità da ripetere, si trovano a dover bilanciare le responsabilità della vita adulta con le pressioni degli esami. Il film ci porta su un ottovolante di emozioni, dove ogni momento è un mix di gioia, ansia e riflessione. Ci sono momenti di risate sfrenate, che nascono dalle situazioni più inaspettate e dai ricordi condivisi, mentre ripensano ai loro goffi anni dell'adolescenza, pieni di avventure e disavventure. Ora cercano di adattarsi a essere di nuovo studenti, un'esperienza che li riporta indietro nel tempo. Ricordate quella volta che Giorgio ha cercato di fare colpo su una ragazza fingendosi un musicista? Un momento esilarante che nessuno dimenticherà. O quando Piero è svenuto durante l'esame di biologia? Un episodio che ha fatto ridere tutti, ma anche riflettere sulla pressione degli esami. Ma ci sono anche momenti di sincera commozione, quando le emozioni prendono il sopravvento, mentre si confrontano con il loro passato, i loro rimpianti e le strade non percorse, cercando di fare pace con le loro scelte. Come quando Lorenzo finalmente confessa i suoi sentimenti a Francesca, un momento di vulnerabilità e coraggio. O quando Luisa trova il coraggio di affrontare il marito autoritario, dimostrando una forza interiore inaspettata. In tutto questo, la forza dell'amicizia emerge con potenza. Si sostengono a vicenda, si incoraggiano e si aiutano a crescere. Si ricordano che è normale inciampare, che ogni errore è un'opportunità per imparare e migliorare. L'importante è rialzarsi e continuare ad andare avanti, con il supporto degli amici. Insieme, affrontano il futuro con speranza e determinazione, pronti a cogliere ogni nuova opportunità che la vita offre. Alla fine del film, ogni personaggio ha subito una trasformazione significativa. Ogni loro esperienza li ha portati a crescere in modi che non avrebbero mai immaginato. Hanno affrontato le proprie paure, si sono confrontati con il loro passato e ne sono usciti più forti, più consapevoli di sé. Le sfide che hanno incontrato li hanno resi più resilienti e determinati. Giorgio capisce che la vera felicità risiede nei legami significativi, non nelle storie d'amore passeggere. Le sue amicizie diventano il pilastro della sua nuova vita. Lorenzo finalmente si lascia andare al passato e si apre a nuove possibilità. Trova il coraggio di esplorare nuovi orizzonti e di abbracciare il cambiamento. Piero trova il coraggio di seguire la sua passione, anche se questo significa sfidare le aspettative della sua famiglia. La sua determinazione lo porta a scoprire un nuovo senso di realizzazione. Luisa riscopre la sua indipendenza e si mette al passo con i suoi sogni. Ogni passo che compie la avvicina sempre di più alla persona che desidera essere. Francesca impara a seguire il suo cuore, anche se questo significa deviare dal percorso convenzionale. La sua audacia la porta a scoprire nuove opportunità e a vivere una vita più autentica. E Virgilio, finalmente trovando la sua voce, esce dall'ombra del padre e abbraccia la sua identità unica. La sua trasformazione è un esempio di come la scoperta di sé possa essere liberatoria. Immaturi ci ricorda che non è mai troppo tardi per cambiare, per crescere e per inseguire i nostri sogni. Ogni personaggio ci mostra che la crescita personale è un viaggio continuo. È una celebrazione commovente dell'amicizia, delle seconde occasioni e del viaggio, a volte accidentato ma sempre gratificante, della vita. Le loro storie ci ispirano a non arrenderci mai. Quindi, se siete alla ricerca di un film che vi faccia ridere, piangere e apprezzare l'importanza di coltivare le persone a cui tenete di più, non cercate oltre. Questo film è un viaggio emozionante attraverso le sfide e le gioie della vita. Immaturi è una perla cinematografica che vi rimarrà nel cuore anche dopo la fine dei titoli di coda. Le sue lezioni e i suoi momenti toccanti vi accompagneranno a lungo.